Buonasera, sono molto contento di essere qua questa sera a presentare questo libro che ho avuto la fortuna e l'onore di leggere in anteprima e mentre facevo questa lettura in anteprima perché Maurizio non so per quale motivo ma si fida di me e mi fa leggere il libro prima di ho trovato questo libro molto appassionante, questo libro sappiamo anche se non l'abbiamo ancora letto che parla di migranti e di confini ma come spesso accade credo che il cuore pulsante di un viaggio che comunque sempre leggere un libro è sempre un viaggio e questo ancora di più perché è un libro che racconta un viaggio, il cuore pulsante di un viaggio spesso si trova apparentemente a latere nelle digressioni e allora voglio iniziare leggendo una di queste digressioni che personalmente è una di quelle che mi ha colpito di più. Chi scrive la voce narrante si trova nei Balcani e si trova a Mostar, una città martoriata durante la guerra civile Jugoslava, una città che vive una sorta di anestesia non solo quel luogo ahimè in Europa per cui c'è una specie di come definisce l'autore una pace di plastica. Allora dopo aver fatto il doveroso e anche credo bello pellegrinaggio turistico al ponte, al famoso ponte ricostruito dove ci sono i giovanotti che si tuffano, l'autore parla con una sua amica, sì siamo in Bosnia, in Bosnia e Herzegovina per la precisazione e la sua amica gli dice la mia amica Cecilia mi ha detto bisognerebbe andare a vedere il mausoleo dei partigiani dopo quello che è successo. Il cimitero non è lontano dal centro città, si prende una strada che porta verso la collina e si cammina. Finisco dentro l'ospedale dove chiedo informazioni e tutti ma proprio tutti si rifiutano di darmele. Alcuni alzano le spalle, altri fingono di non capire. Il luogo che sto cercando seguendo la mappa sul telefono è difficile da trovare e dopo un'ora di ricerche finisco di fronte a un cancello tra le colline in mezzo ai rovi. C'è un uomo che mi vede mentre tento di scavalcare e mi urla qualcosa, suppongo in croato, poi torna nel suo gabbiotto. Mi metto a urlare anch'io, information, information, ma quello che se ne torna nel gabbiotto. Per potesta mi pianto davanti al cancello e non mi muovo, continuando a ripetere, information, information. Estenuato, l'omino finalmente cede e mi raggiunge. Così gli chiedo dove si trova il cimitero partigiano di Mostar e quello mi guarda con disprezzo e disgusto, indicando con la mano un piccolo sentiero da seguire. Entro dentro una fitta boscaglia che diventa quasi invalicabile. Dopo circa duecento metri supero delle reti e mi affaccio su un grosso anfiteatro che si allarga ai miei piedi. Sotto di me vedo una massa in forma di cemento. Sono arrivato dentro il cimitero partigiano di Mostar e subito capisco cosa voleva dirmi Cecilia. L'intero mausoleo è devastato, raso al suolo da un raid nazifascista che ha distrutto tutte le 600 lapidi presenti. Cammino in un cimitero partigiano dove le lapidi giacciono al suolo ridotte in pezzi. Sono da solo in un luogo devastato e mi viene l'istinto di prendere una di quelle lapidi spezzate, portarle a casa e metterla ai piedi della rosa che mio nonno piantò nel 45 al termine della guerra di liberazione. È ancora viva. Vorrei salvare qualcosa da questo orrore che molto racconta di cosa siano i Balcani e l'Europa oggi. Allora mi chino e prendo in mano un pezzo di una lapide su cui è incisa la data di morte di un ragazzo, ma poi quando sto per riporlo nello zaino non ce la faccio e lo lascio lì, in mezzo ai rifiuti e alle ruaccia. Il cimitero partigiano, già abbandonato alle autorità politiche, locali e nazionali, con ogni probabilità è stato devastato dagli Ustasha, movimento fascista ampiamente riabilitato in Croazia dopo l'indipendenza. Ebbene, dal centro di quell'anfiteatro, nella completa solitudine, mi rendo conto che la realtà è questa, cruda e inesorabile, e mi guarda con occhio crudele ricordandomi da dove arriviamo e soprattutto dove stiamo andando. Allora, questo momento che appunto è una piccola pausa che chi scrive si prende da questo viaggio, che qui è molto concentrato, un viaggio alla ricerca di questa frontiera trasversale che l'Europa ha tentando di separarsi dal mondo. Ecco, questa digressione, perché questa digressione è nel libro e perché è così importante? Allora, buonasera, grazie per essere qua. Mi fa molto piacere, mi fa anche molta impressione vedere tutte queste persone, perché sulle mie spalle sento il peso di coloro che ho incontrato in questi 125 giorni di viaggio che tuttora continuano a scrivermi e che tuttora vagano per i Balcani, sostanzialmente rimbalzati da un punto all'altro. Questa digressione è uno dei molti punti morti che ci sono stati in questo viaggio. Io sono partito dal confine italo-francese, dove terminava il mio libro precedente, ancora 12 chilometri di bollati boringhieri, e sono giunto quasi al confine con l'Iran. Una buona parte l'ho percorsa a piedi, sono arrivato sostanzialmente da Trieste, sono arrivato sostanzialmente fino alla Bosnia a piedi. Poi ho capito che ciò che immaginavo che ci fosse non c'era, e c'erano tutti questi punti morti che ci sono. Ho tentato di risalire attraverso una mappa che mi era stata data da un uomo, una donna che ho conosciuto a Brian So, grazie alla collaborazione con una fotografa torinese che si chiama Diana Bagnoli, con la quale avevo portato avanti dei reportage. Questa coppia è giovanissima. I ragnani mi avevano detto che c'erano 60 persone della loro famiglia che erano disperse lungo la rotta dei Balcani, lungo un sentiero che mi avevano dato. L'idea quindi è stata quella di ricostruire la rotta dei Balcani ricercando queste persone. L'idea che mi sono fatto, magari anche in maniera molto ingenua, era che una volta superato Trieste ci fossero questo flusso umano, quantomeno vicino alle frontiere. Invece io non ho trovato sostanzialmente nessuno, quindi a un certo punto ho smesso di vagare, di camminare io stesso a ritroso, io ho fatto il percorso a ritroso, e mi sono dedicato prettamente ai luoghi, ai nodi principali che sono sostanzialmente le frontiere, più o meno conosciute. Da qua al messaggio del libro, la guerra invisibile, cioè noi definiamo frontiere quelle che in realtà sono delle fortificazioni, perché si connotano sul piano militare, sono luoghi che vivono sul piano militare, non sono la frontiera italo-francese che già è qualche cosa di particolarmente complesso da attraversare. Faccio mia le parole di un'amica che stimo profondamente, che ha utilizzato il giusto termine di paragone, se si paragona la frontiera italo-francese con quei ventimiglia o le altre che descrivevo nel libro precedente con quelle, che ne so, Grecia-Turchia, no? È ginnastica, cioè sono cose, mentre dall'altra parte invece sono pure fortificazioni militari. In questo immenso vagare lungo queste frontiere, incontrando tutto l'ecosistema umano e animale che vive, i due piani intersecano, umano e animale, perché gli umani vivono come animali sostanzialmente, e quindi diventa difficile addirittura capire quali siano i luoghi prettamente umani e quali siano i luoghi prettamente animali che ci sono nei Balcani, ad esempio dove ci sono le giungle, le cosiddette jungle camp. In questo contesto giungevo in luoghi come Mostar, ad esempio, o Karlovac, o Gevgelia, che sono luoghi totalmente sconosciuti o straconosciuti per altre ragioni. incrociando queste storie tipiche dei Balcani, che sono appunto un luogo che compenetra il nero con la luce, cioè questi luoghi così duri e mortiferi sono attraversati da enormi risate, cioè sono luoghi dove la vita è rompe anche, questo mi ha molto sorpreso. Uno di questi appunto è il cimitero partigiano di Mostar, che è una storia, io penso che sia una storia che abbia un senso a livello europeo, come tutto quanto racconto in queste 240 pagine, abbia un senso prettamente europeo. Il mio è un libro che racconta non dell'Italia, racconta dell'Europa e del processo politico in cui va incontro l'Europa e tutti noi, perché tutti noi siamo, come dire, finanziatori, diretti o indiretti, delle politiche di respingimento assurde, folli e irrazionali e disumane che ci sono lungo questi 6.000 chilometri che ho percorso. Il cimitero di Mostar, come i murales di Karlovac, antisemiti di Karlovac, danno un'idea, che trovate nelle pagine del libro, danno un'idea del solco culturale dove in tantissimi ci stiamo sorprendendo di essere, ma è una sorpresa che deriva appunto dalla voluta invisibilità, perché in realtà sono delle manifestazioni estremamente palesi e nette. Dico solo più questo, nel nemico, i migranti in quanto tale, io a un certo punto intorno a pagina 80 smetto di definirli tali, perché non sono più migranti, cioè io mi permetto, anche discutendo molto con queste persone che tuttora, pensate che ho delle persone, ho un'amica cara che ieri è riuscita a fuggire dalla Turchia, è arrivata in Serbia, non si sa come, adesso sta tentando di passare in Slovacchia per poi arrivare in Norvegia, sono storie, tutte storie da romanzo. Questa donna, che si chiama Lisa, ieri mi faceva gli auguri, cioè lei faceva a me gli auguri affinché oggi questa presentazione andasse bene. Sono piani umani che mi fanno molta impressione, fanno molta impressione, perché sono persone che sono entrate nel mio cuore, nella mia anima e che io mi porto dietro, ho tentato di mettere in queste pagine, dunque questo ecosistema umano sente su di sé il peso di queste politiche che in questo momento sono non dell'Italia, ma bensì di un intero continente e non le capiscono, hanno estrema difficoltà a comprendere la razio che c'è in tutto questo. E da qui la definizione di nemici, cioè questi non sono più migranti, sbagliamo a definirli migranti, se sei un uomo, una donna, un bambino, anche molto piccolo, non riesci a superare una frontiera fortificata dove c'è una rete alta 6 metri e ci sono il filo spinato in cima e si liberano i cani e ci sono le ronde, ci sono i droni che girano per aria. Questi non sono più migranti, questi sono proprio nemici, ognuno ha il suo nemico, stiamo parlando della guerra ucraino-russa, ma noi ne stiamo conducendo un altrettanto, non di questa scala ovviamente, ma noi ne stiamo combattendo un'altra sul piano militare, che sono contro questi uomini e donne che sono totalmente disgraziati. Chiudo dicendo che a maggior ragione li consideriamo nemici se pensiamo che a queste persone non viene riconosciuta, soprattutto, poi passerò la parola a chi è qua con me, non viene riconosciuta la protezione temporanea, perché sono comunque esseri umani che sono in fuga da vere guerre e trovano altre situazioni di guerra. Situazioni di guerra che comportano anche dei caduti in battaglia, cioè io nella mia esperienza sono stato in luoghi dove venivano recuperati dei cadaveri ogni notte al confine greco-turco, perché non riuscivano a passare il fiume Evros che divide la Grecia e la Turchia, soprattutto nella città di Edirne. È un panorama molto cupo quello che esce dalle mie pagine, mi è stato detto da chi l'ha letto in alteprima, soprattutto da coloro che vivono nei Balcani, ma tale è. E quindi ho pensato che, differentemente dal libro precedente, in cui avevo messo delle note di speranza data da questa rete che c'è in Valsusa di volontari che supporta, che si ingegna e che salva e che lotta, io in queste pagine ho trovato veramente, in questo viaggio ho trovato veramente un cuore nero. E questo cuore nero viene, penso che venga fuori in maniera abbastanza netta da quello che mi ha detto. Allora, mi permetto di passare la parola a Muna Konzum, che è un'assistente legale, è siriana, ed è un'attivista di diritti umani, io l'ho conosciuta molti anni fa, e lei penso che abbia una storia da raccontare che abbia a che fare con quello che ho scritto io. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Infatti, poco prima stavo pensando alla prima volta quando ci siamo conosciuti, eravamo entrambi relatori in questo incontro che è stato organizzato con alcune classi di una scuola superiore che hanno fatto questo progetto sul tema delle migrazioni. Da lì è iniziato, diciamo, il nostro dibattito su queste tematiche. Però, pensando a tutte le cose che ci siamo detti adesso anche nel tuo nuovo libro, sì, vero, io sono anche una persona migrante, però mi sento molto privilegiata semplicemente perché mio padre era dico e quindi sono riuscita a evitare tutte queste rotte migratorie dove le persone rischiano la vita tutti i giorni. Semplicemente pagando una persona sono riuscita a tenere un visto che poi all'inizio non era così semplice perché quando ho deciso di lasciare la Siria dopo l'inizio della guerra ero andata in Turchia come qualsiasi altra persona nel mondo per viaggiare cosa facciamo? Andiamo in ambasciato, consolato, chiediamo il visto, il timbro, il passaporto e si parte. Pensavo fosse una cosa così semplice e invece no perché appena mi presento al consolato italiano in Turchia, ad Istanbul prendono il mio passaporto c'era questo ragazzo anche giovane sui ventenni che lavorava lì prende il mio passaporto così schifato mi fa sei siriana? Cioè sì, dove pensi di andare con questo passaporto? Me lo lancia in faccia. Io ero rimasta un po' in shock avevo mia figlia che era piccolina all'epoca non sapevo più che fare non potevo più tornare in Siria perché avevo già lasciato la casa tutta... avevo chiuso tra virgolette la mia vita che avevo lì non potevo rimanere in Turchia perché non riuscivo a vedere un futuro lì i miei erano già in Italia quindi l'unica strada era andare a cercare i cosiddetti trafficanti barra scaffisti lì cercando un po' in giro mi hanno portata in questa piazzetta da Xerai dove ci sono vari locali e era, non so se è ancora oggi il punto di incontro di tutti questi trafficanti la persona migrante arriva lì entra nel primo locale gli viene dato un listino di prezzi se vuoi un gommone russo paghi i tot un altro tedesco paghi i tot una barca a vela tot proprio l'istino come quando andiamo al ristorante a ordinare cena in modo molto tranquillo e ogni persona a base dei soldi che aveva poteva permettersi un viaggio un pochettino più sicuro la cosa più difficile nella mia vita è stata dover portare mia figlia in questo negozio vicino alla piazza lì per provare salvagente che per lei era un giubbotto arancione tutto colorato lei all'epoca aveva poco più di un anno e mezzo quindi non potevo nemmeno spiegare a lei cosa stavamo andando a fare lì provando questi giubbotti per lei si metteva a ballare io cercavo di nascondere le mie lacrime perché per lei per me era l'ultima speranza per lei era un viaggio andiamo a fare un po' di vacanze in un altro posto per fortuna il giorno dopo quando stavo già preparando lo zaino mettendo i cellulari e i documenti nelle bustine di plastica mio padre mi chiama dicendo no blocca il numero dello scaffista devi andare direttamente domani mattina in consolato faccio papà ma io ci ho già provato non mi danno il visto no no tranquilla ci penso io devi andare lì dire mi hai mandato tizio e ti fanno passare cioè vabbè arrivo lì di nuovo con mia figlia lascio i passaporti seguendo le indicazioni di mio padre quelli iniziano a trattarmi con rispetto mi danno del lei in modo molto gentile dopo meno di un'ora tornano da me mi consegnano i passaporti con i visti dentro e chiamo mio padre e gli faccio ma che è successo posso andare a prendere un volo con questo visto mi bloccano è falso mi fanno no no tutto normale ovviamente non poteva spiegarmi nulla quando sono arrivata qui a Torino in aeroporto è venuto lui a prendermi la prima cosa e gli faccio come hai fatto eh ho pagato ha trovato una persona ha pagato una persona per farmi avere questo visto per questo che dico che mi sento privilegiata perché con i soldi sono riuscita a risolvere a salvare la mia vita e la vita di mia figlia da lì mi ricordo quando ero in Turchia ho iniziato un po' prima ho iniziato un po' a fare attivismo nell'ambito delle migrazioni dopo anni che ormai sono 8-9 anni le persone migranti fanno passare il mio numero dicendo se avete bisogno di qualcosa chiamatemi una letteralmente così quindi potete immaginare la quantità di chiamate messaggi che mi arrivano da tutto il mondo meno male ovviamente sono riuscita a creare una rete di organizzazioni attivisti attiviste volontari volontarie che mi supportano nelle varie città e nei vari paesi adesso mi trovo a dover offrire supporto a persone anche in mezzo al mare la cosa la cosa più difficile da fare è dover comunicare la morte del figlio alla madre tante tante volte quando mi arrivano adesso da imbarcazione in mare io ovviamente mi metto lì a prendere le coordinate cercando di tranquillizzarli spiegare a queste persone come trovare le coordinate per mandarmeli io vado a cercare le autorità responsabili in quella zona di soccorso per comunicare poi alla guardia costiera le coordinate dell'imbarcazione nella speranza di poter mandare i soccorsi tante volte non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta perché perché le autorità continuavano a dirmi no ma noi stiamo monitorando la situazione non stanno morendo quindi possono ancora aspettare a settembre l'anno scorso mi era arrivato un SOS da un'imbarcazione partita dal dal Libano era arrivata vicino vicino all'Italia l'Italia ovviamente continuava a dire no ma la situazione tutto bene loro stanno andando verso Malta dovete chiamare Malta chiamo Malta dopo due tre chiamate appena chiamavo la guardia costiera si buonasera sono Muna attaccavano subito era proprio così da lì continuavo a chiamare questa imbarcazione per per ottenere coordinate aggiornate perché l'imbarcazione nel mentre si stava muovendo erano arrivati verso la Grecia la stessa situazione e lì la Grecia non non voleva dare l'autorizzazione al soccorso dopo giorni e giorni queste persone erano rimasti senza acqua senza cibo mi ricordo di aver ricevuto una delle chiamate da questa imbarcazione c'era questo uomo con i suoi figli che mi chiedeva meglio farli bere l'urina oppure l'acqua del mare che poi una di queste bambine è morta perché aveva passato dieci giorni senza acqua come diceva Maurizio prima finché queste persone sono invisibili sono lontani nessuno riesce a capire cosa hanno vissuto per questo è importante continuare a raccontare come fa Maurizio nel libro cerco anch'io di farlo ogni tanto raccontando del mio lavoro perché queste persone sono esseri umani non sono solo numeri continuiamo a leggere nei giornali un'imbarcazione a bordo 450 persone arrivate a Lampedusa a Crotone tot persone per i governi sono solo numeri poi quando le persone migranti che riescono a sopravvivere a questo viaggio arrivano in Italia in Europa in altri paesi cercando semplicemente di creare di crearsi un'altra vita perché alla fine nessuno decide di abbandonare la sua propria vita se non ha un minimo di speranza di poter migliorare un po' la sua situazione che è un diritto banalissimo dell'essere umano cerchiamo sempre di migliorare la nostra vita il problema è che quando arrivano principalmente nei paesi europei questa etichetta migrante rimane lì io racconto una storia giusto per farvi ridere un po' una decina di giorni fa avevamo una riunione con varie associazioni che lavorano nell'ambito delle migrazioni e c'era questa persona volontaria che da anni si occupa della lotta per i diritti delle persone migranti mi guarda mi fa ma tu lo parli benissimo l'italiano da quanti anni sei qui il faccio no sono qui dal 2015 ma lo parli benissimo il faccio grazie anche tu e quello è rimasto un po' silenzio cioè vengo adesso io da te dal nulla ti dico tu lo parli bene l'italiano come mi rispondi grazie a Dio sono italiano cioè appunto perché per te io non sarò mai italiana e per questo quando sì è anche un modo carino quando le persone dicono ma lo parli bene grazie però non è comunque c'è un po' di discriminazione dentro anche se la persona non lo dice in modo cattivo però è l'idea che diciamo il mainstream ci ha lasciato nella testa che queste persone rimangono per sempre migranti io sono rifugiata sono anche rifugiata però per me non è la mia etichetta non è solo questa è la mia identità dopo anni di lavoro attivismo volontariato sono riuscita a crearmi altre identità che valgono allo stesso livello e il problema è quando le persone continuano a guardarmi come migrante punto proprio stamattina ero in questura ad accompagnare una persona mi presento alla responsabile lì buongiorno sono assistente legale lavoro con questo studio due minuti prima si mettevano a sgridarmi mettiti in fila perché sei qui bisogna prendere appuntamento appena mi sono presentata così iniziano a darmi del lei rispettarmi prego prego avvocato quindi sono capace a farlo semplicemente perché hanno capito che io non mi presento soltanto come migrante e questo è il problema io parlo tantissimo grazie passo la parola volevo farti una io volevo chiederti una cosa Maurizio volevo chiederti anzi più di una cosa forse sono legate fra loro quindi puoi darmi una risposta volevo sapere se prima di partire per questo viaggio al di là delle cose che pensavi di incontrare e non hai incontrato diciamo da un punto di vista della relazione con l'umanità che è anche dentro ognuno di noi quindi con l'umanità che tu hai dentro di te se prima di partire per questo viaggio ti hai rifatto un'idea che poi hai trovato confermata o smentita alla fine di questo viaggio e se c'è qualcosa che come dire che ti fa venire ancora adesso i brividi e se ti sei qualche volta vergognato ma non come cittadino europeo vergognato come scrittore durante il viaggio allora dunque no sostanzialmente non ho è stato tutta un'immensa scoperta quello che trovavo anche in virtù di quello che diceva prima Muna in realtà sono dinamiche irrazionali e alineari quelle in cui si inizia un percorso non si sa mai dove si va a finire ci sono stati dei momenti che mi hanno turbato molto e in particolare il confine in realtà mi ha allora ci sono state ho scoperto della mia potenza della potenza data dal mio passaporto dai miei occhiali da sole dalla mia carta di credito sostanzialmente fino al confine fino alla Turchia dove sostanzialmente si può fare tutto ciò che si vuole si può passare davanti agli altri io passavo platealmente davanti agli altri a persone come lei io venivo fatto passare davanti senza nessun problema anzi venivano a prendermi in corso perché io arrivavo con lo zaino ai confini e quindi c'era un corso dei processi dei momenti di pushback quindi io li vedevo in prima in prima persona mi vedevo mi vedevo proprio conto e penso di averlo messo bene nelle pagine che cioè siamo gli esseri umani non lo scopriamo nel 2023 ma non siamo tutti uguali proprio da un punto di vista umano siamo proprio nettamente diversi e io ero chiaramente un euro che camminava ero chiaramente un turista cioè questo mi ha dato l'idea della potenza che ha il turista laddove passa in qualsiasi frontiera è un altro campo questo ma se tu ti presenti con una determinata tenuta da turista sei un gradino sotto Dio in certi contesti tra l'altro sono ambienti e scenografie che sono tutte bellissime montagne bellissime colline stupende boschi stupendi e tutte moltissime frontiere sono attraversate da flussi di migranti e flussi di turisti esattamente come quelle della Val di Susa o 20.000 questo mi ha turbato molto cioè la mia potenza politica la potenza del mio passaporto e la potenza di ciò che avevo nel portafoglio mi ha veramente mi ha fatto riflettere tutto ciò decade parzialmente in Turchia si entra dentro un'altra dinamica ma non 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 totalmente in Turchia bisogna fare decisamente più attenzione soprattutto quando ci si spinge verso il Kurdistan mi sono vergognato di essere scrittore ma io se devo essere sincero quello che dicevo prima con un amico non lo so da quando da quando io ho orecchie per sentire quindi non faccio altro che sentire persone che intorno a me mi dicono che sono bravo a scrivere ma vi assicuro che io non sono assolutamente in grado di raccontare non sono stato assolutamente in grado di raccontare quello che ho che ho visto che ho intercettato assolutamente è stato è un per quanto già abbia messo ogni tipo di impegno ogni tipo di tecnica abbia sono storie la cui potenza non è raccontabile non esistono esistono solo parzialmente delle parole delle parole e di questo non è che mi vergogno ovviamente ho fatto del mio meglio ma ho fatto ho raggiunto penso il limite il limite narrativo quanto meno quanto meno quanto meno mio mi sono sicuramente vergognato come cittadino europeo alla frontiera con Grecia Grecia Turchia mi sono vergognato profondamente penso che dovremmo e questo probabilmente cioè è un sentimento che probabilmente condivideremmo tutti una volta che si vedono determinate scene cioè io al mattino vivevo in questo ho raggiunto questa Edirne questa città meravigliosa dove tenete conto io sono finito in un ecosistema appunto dove a un certo punto non sapevo con chi avevo a che fare cioè si entra dentro giri che ti dicono vieni con me ti faccio vedere delle cose non sai con chi sei si perde totalmente il controllo della situazione quindi ci si affida agli altri ed è stata una cosa molto bella quella di affidarmi agli altri a un certo punto sono finito a Edirne in questa organizzazione parallela di non so chi che sostanzialmente vive in questa città per dare supporto medico a quelli che vengono respinti nella notte lungo il fiume Evros e funzionava così a un certo punto io ero a casa di questo ragazzo un poeta che è quello che apre il libro tra l'altro una storia anche questa incredibile non è riuscito a superare un poeta straordinario secondo me non è riuscito a superare il confine è stato bastonato a sangue adesso è finito a Dubai mi manda dei messaggi chiedendomi di liberarlo dalle catene guardate sono cose molto dure quelle che ho visto e quelle che tento di raccontare comunque suonava ero a casa sua suonava il telefono alle due del mattino lui partiva partivamo insieme raggiungevamo il limite non pericoloso che separa la città dal fiume Evros quindi tre chilometri prendevamo i feriti prendevamo letteralmente i feriti li caricavamo in macchina li portavamo in una cantina e li buttavamo lì sostanzialmente passava la notte quest'uomo e un altro un libico riuscivano a trovare dei medici che pagavano che arrivavano in questa contina e sostanzialmente li rimettevano insieme queste cantine erano piene di donne uomini e bambini che erano pesantemente pestati pesantemente pestati e soprattutto nudi perché esiste in questi e penso che Muna lo possa raccontare molto bene esiste in queste frontiere quella che viene definita la pedagogia del terrore cioè coloro che non passano la frontiera hanno un ruolo principale cioè che è quello di raccontare che cosa si rischia nel momento in cui tu fai quel passo in avanti quindi essere depredati di tutto essere spogliati essere picchiati tornare indietro e raccontare che cosa qual è il tuo destino nel momento in cui accetti di tentare il game questa è una cosa che come cittadino europeo e italiano mi fa profondamente vergognare e mi indigna lo metto chiaramente lo scrivo lo scrivo nel libro perché ovviamente siamo tutti compartecipi questo il nostro tutti paghiamo le tasse sappiate che le nostre tasse finiscono in queste milizie che la notte altre storie che posso raccontare cioè i barchini che partono da Smirne alla volta dell'Italia di cui sentiamo molto parlare in questi giorni la notte vengono raggiunti trovate nelle pagine da milizie senza stemmi col mefisto nero ho visto le foto di tutto questo col mefisto che salgono sul barchino senza una parola raggiungono la poppa smontano il motore lo buttano in acqua e se ne vanno non si sa chi sia questa gente qua chi so non hanno simboli sono milizie che si muovono così che saranno pagate da qualcuno non si sa da chi che fanno parte del nostro panorama civile europeo sì è questo in tutto questo vorrevo sottolineare una cosa perché poi mi è capitato di essere sono stato invitato in una trasmissione importante nazionale nella quale raccontando tutto ciò sostanzialmente dicevano il metamessaggio che veniva era vedete al di là di Trieste c'è l'inferno noi in confronto siamo molto meglio non è così non è assolutamente così noi siamo parte di un ecosistema che ha fatto sì che ha trasformato le frontiere in fortificazioni in trince quello di cui parlavamo prima e che ha sposato totalmente la pedagogia del torrone chiudo e poi chiedo anche un parere a Muno su questo dicendo due cose allora la prima è che tutto ciò tra l'altro non ha molto a che fare con l'Italia ma a che fare con la Germania perché io non so con quante persone ho parlato tra Brian Song e Sroom ma centinaia li ho anche ringraziati dei libri li ho definiti sconosciuti ma non ne ho trovato uno che mi abbia detto il mio obiettivo è venire in Italia non uno tutti mi hanno detto che il loro obiettivo è quello di raggiungere la Germania o il nord Europa tutto questo ha a che fare con però noi abbiamo scelto di sostenere una politica di chiusura come quella che è imposta dai paesi di vicegrad e quindi in linea teorica non mi sembra una scelta ancora più irrazionale la seconda è un ragionamento che io ho posto sul quotidiano domani che ci tengo a sottolineare anche se è alato il quotidiano domani con cui collaboro è cioè far sì che tutto questo esca da questo contesto e io la metto lì non c'è tempo per discuterlo ma a un certo punto io scrivo che tutto questo lo vorrei trasformare in un videogioco cioè lo metto lì butto la bomba in mezzo alla sala in un videogioco per per giovani per ragazzi perché io sento l'enorme frustrazione di non riuscire a raccontare tutto ciò ad un parterre che non sono i soliti tra virgolette forse perché ho fatto per un mucchio di anni l'educatore io e quindi questa impostazione da educatore me la sono me la trovo nelle vene cioè fa parte del mio DNA e in questi tempi mi sono con un amico un giornalista che si chiama Federico Ercole che penso che sia qua da qualche parte ci siamo inventati una sceneggiatura per trasformare tutto questo in un in uno strumento che possa raccontare questa 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 follia che c'è in Europa ad un ad un mondo che difficilmente leggerà il mio libro o difficilmente verrà raggiunto da questo è un dibattito in au in corso sto sentendo diversi scrittori torinesi sono tutti contrari ovviamente veramente bestemmiato in chiesa e i primi i primi commenti che ho ricevuto mi sono stato detto vabbè tu sei stato coraggioso ma loro vogliono tenere il culo al caldo e quindi non va bene che non è una cosa secondo me che c'entra molto ma è un pensiero che su cui io sto riflettendo non c'entra niente con il libro ma su cui io sto riflettendo molto cioè come raccontare al di là di queste 240 pagine i contenuti di questo di questo libro perché mi frustra e mi mi porta ad avere una spinta ad un impegno nella ricerca di nuove soluzioni parlando di giochi videogiochi qualche anno fa ogni tanto faccio dei laboratori nelle scuole su sulle tematiche dei diritti umani immigrazione eccetera ero in un istituto tecnico a Fossano nel Cunese mi hanno chiesto di fare con loro qualche attività per parlare un po' dei diritti doveri delle persone migranti le disuguaglianze sociali cosa vuol dire migrazione quindi abbiamo fatto questa attività erano tutti maschi tra l'altro abbiamo fatto questa attività in cui ho messo i ragazzi in fila ogni ragazzo aveva un bigliettino con un personaggio che avevo scritto io prima alcuni erano tipo sei la figlia dell'ambasciatore nel paese in cui vivi sei contadino in un paesino sperduto sei un ragazzo clandestino di 20 anni eccetera eccetera quindi erano persone che rispecchiano più o meno la nostra società persone che possiamo incontrare ovunque anche per le strade l'attività inizia con i ragazzi in fila io che racconto leggo una serie di eventi situazioni ogni persona ogni ragazzo a base del suo personaggio se la sua risposta era sì fa un passo avanti se la risposta è no non fa nessun passo quindi per esempio la prima frase era non hai mai avuto problemi economici nella tua vita se a base del tuo personaggio la risposta è sì fai un passo avanti se no rimani lì quindi alla fine dell'attività dopo una ventina di situazioni di eventi così alcuni hanno fatto tantissimi passi sono arrivati fino alla fine dell'aula altri sono rimasti fermi quindi io mi avvicino poi alla fine a uno dei ragazzi che non ha fatto nessun passo stavamo già parlando cosa vuol dire diritti cosa vuol dire doveri gli chiedo di leggere il suo bigliettino spiegando perché dal suo punto di vista questa persona non poteva fare nessun passo il bigliettino era sei un ragazzo nigeriano clandestino di 20 anni io gli faccio ma secondo te questo ragazzo non ha diritti fa no perché tanto i clandestini non hanno niente tranne le armi faccio le cose le armi per uccidere poi iniziamo a discutere di più questa cosa questo ragazzo era cresciuto in una casa la famiglia era molto chiusa diciamo prendevano queste notizie solo dai telegiornali che loro sceglievano tra l'altro e il ragazzo non aveva nemmeno la possibilità di confrontarsi con il mondo fuori di conoscere le altre persone di cui si parla nei telegiornali e quindi per lui era come se fosse una regola i genitori hanno deciso che i clandestini sono tutti delinquenti criminali quindi lui per lui sono tutti così ed era super convinto perché appunto non ha mai avuto la possibilità di conoscere queste storie di ascoltare questi racconti per questo come dicevi è molto importante far uscire queste testimonianze raccontare al mondo che si tratta di vite di esseri umani non si tratta di politiche parliamo delle statistiche in questo paese e l'altro paese voi quanti potete prendere gli altri ok voi di meno quest'anno facciamo così non è un gioco per questi governi sono vite di esseri umani che si tratta di esseri umani che si tratta di esseri umani che si tratta di esseri un po' Grazie a tutti.